ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube il mio gentilissimo utente che mi fornisce sempre delle bellissime testimonianze vincenti e questa vuole essere una testimonianza molto speciale molto particolare proprio per farvi capire cosa vuol dire avere i miei metodi anche quelli storici presentati sul mio canale youtube e queste sono le vincite che si possono ottenere come l'ambosecco 10 44 vinto su bari e qui vediamo un'unione in lunghetta di quelle che sono tutte le ambate ottenute e calcolate dai miei metodi quindi è una cosa molto importante avere i metodi presentati sul mio canale youtube qui vediamo una lunghetta con il 4 9 10 11 17 e qui è stato preso addirittura un terno con il 44 con il 70 e con il 10 44 70 e 10 quindi unendo praticamente le ambate dei metodi ma non solo in quest'altra lunghetta si è andato a vincere con il 62 e il 44 se non sbaglio sto guardando l'estrazione con il 62 e 44 peccato per quel 90 che è molto atteso sulle ruote di bari cagliari e mi raccomando a giocarlo perché è molto molto atteso ma come potete notare avendo i miei metodi in mano è semplicemente sono metodi mensili quindi voi andate a fare una lunghetta con le ambate oppure questo quest'ambo 10 44 che viene da un metodo in particolare si vanno ad ottenere veramente dei buoni risultati diciamo che non sempre vi porto le vincite mensili dei miei metodi però chi ha in mano i miei lavorati sa benissimo che ogni mese vanno a pagare potrei fare un video ad estrazione per tutte le vincite che mensilmente ottengo con metodi anche storici per esempio parliamo ambata fatata ambata leader superambo 44 ambo energetico cagliari l'isola felice